che botta ragazzi che colpo permettetemi di dirlo e siccome sono una persona particolarmente onesta sapete che dico sempre quello che penso senza senza filtri lo ammetto senza alcun problema sto rosicando per questa operazione di calciomercato che alla fine l'inter è riuscita a chiudere l'inter nuovamente la spunta sul milan che aveva provato ad inserirsi aveva fiutato l'affare perché non stiamo parlando di un ragazzo qualunque stiamo parlando di un ragazzo che negli ultimi tempi si è preso di prepotenza e di cattiveria una dimensione importantissima all'interno del sassuolo ormai sua ex squadra ma anche nel giro della nazionale italiana e sono qui ovviamente per esprimere in merito il mio pure semplice parere personale ovviamente sull'acquisto di frattesi da parte dei nerazzurri darò un voto in rapporto qualità prezzo per l'operazione di calciomercato che hanno chiuso i nerazzurri darò un voto per quello che penso possa dare all'inter del futuro ma facciamo così se no ci mettiamo veramente dieci ore facciamo dieci ore di intro vi saluto immediatamente ciò è bello a tutti da me vi chiedo di lasciare una marea di mi piace su questo video se volete in merito anche il parere del buon Fabio ragazzi in questo caso in questa operazione di calciomercato credo sia particolarmente d'obbligo fatemelo capire lasciando tantissimi mi piace mi raccomando iscrivetevi e attivate la campanella per restare sempre aggiornati ogni volta che pubblico qualcosa devo ricordarvi che ho due canali di calcio non dimenticatelo se no tanti video importanti ve li perdete ho anche un canale extra calcio per non farvi mancare nulla lascio i canali tutti in descrizione o compariranno qui durante il video non dico che è un fulmine a ciel sereno perché sapevamo tutti già da qualche giorno che in realtà l'inter st'operazione di calciomercato l'aveva quasi praticamente chiusa poi c'era stato un congelamento nella trattativa perché l'inter stava dando priorità ad altre situazioni poi è arrivata la cessione di Brozovic e in realtà per qualche tempo si è pensato si potesse dare priorità ad altri acquisti in altri reparti probabilmente i nerazzurri si sono resi conto che sarebbe stato un errore lasciare andare lasciar partire da altre parti probabilmente chi lo sa sarebbe andato al Milan un calciatore come Frattesi che non avrebbe rinforzato loro con le sue qualità ma avrebbe probabilmente rinforzato una diretta concorrente forse per quello hanno deciso di puntare tutto e forte su di lui io ragazzi vi leggo qualche numerino che detto così insomma sembra io stia sminuendo il calciatore ma lungi da me farlo anzi penso esattamente l'opposto parliamo di un 23enne ragazzi centrocampista comunque di una tuttilità importante perché i ruoli centrali del campo secondo me li può fare assolutamente tutti e parliamo di un calciatore che quest'anno anzi io ve leggo i numeri totali dei Frattesi da quando è professionista 264 presenze 44 gol e 17 assist questo a dimostrazione del fatto ragazzi di quanto questo centrocampista sia veramente universale ma anche e soprattutto con delle spiccate doti offensive la sua parentesi in serie A 72 presenze totali 11 gol e 4 assist ragazzi sono numeri pesanti sono numeri particolarmente importanti e l'Inter trova l'ennesimo jolly per eccellenza volevo un attimo rispondere a chi qualche giorno fa leggevo sui social diceva ma è troppo simile per caratteristiche a Barella potranno coesistere insieme ragazzi ma state scherzando ma l'Inter veramente si è assicurata un centrocampo per il futuro veramente incredibile forse sì uno dei due se giocheranno insieme nel centrocampo a 5 lasciate perdere gli esterni lasciate perdere il mediano dovessero giocare loro Barella e lui come due mezzali ovvio che ragazzi a uno verrebbero assegnati dei compiti un po' più difensivi magari potrebbero anche alternarsi in realtà ma la cosa bella anche e soprattutto di frattesi è che non è che sa solamente attaccare a me è sempre piaciuto anche in fase di interdizione anche in termini di personalità per quello parlavo di un vero e proprio jolly per quello parlavo di un centrocampista universale che sa fare veramente di tutto la tecnica di base non gli manca ma soprattutto nel calcio che si evolve è importante avere i tempi di inserimento aiutare, supportare quella che è l'azione offensiva anche solo inserendosi negli spazi lui non ha solo quella di qualità lui sa anche calciare in porta la porta la vede tanto per dati statistici è uno di quelli che tira di più in serie A ed è anche uno che sa vedere i compagni tradotto e detto in altre parole ma che giocatore che si è andato ad assicurare l'Inter per i prossimi anni ancora solo 23 anni ne farà 24 il 22 settembre ma è ancora particolarmente giovane se io devo dare un voto in rapporto qualità prezzo onestamente è poi anche la capacità dell'Inter di inserire Mulattieri nella trattativa e far abbassare quelle che sono le pretese del Sassuolo è sicuramente un plasma guarda Mulattieri al Sassuolo diventa un giocatore di quelli clamorosi però ecco in un calcio in cui veramente non si possono spendere tantissimi soldi riuscire ad inserire una contropartita che l'altra squadra gradisce per far abbassare la valutazione del calciatore non è una cosa così semplice mettiamola così l'Inter secondo me l'ha pagato quello che vale alla fine col plus della contropartita che ti abbassa la pretesa dice ma la Roma da sto fatto ci guadagna la percentuale sulla futura rivendita ma chi se ne frega io lo avrei voluto tutta la vita dalla mia ragazzi l'avrei voluto tutta la vita dalla mia in un centrocampo ipotetico nella Roma del futuro ci avrebbe fatto tutta la differenza del mondo quindi il rapporto qualità prezzo io voglio dare sette e mezzo in realtà perché l'hai pagato quello che lo dovevi pagare non è che ti hanno chiesto cento milioni di euro alla fine secondo me ragazzi il valore dei frattesi è quello per quanto poi transfer market porti una valutazione più bassa porta venticinque milioni di euro ma chi c'è poi a venticinque milioni di euro ma quando ti avrebbero dato frattesi a venticinque milioni di euro lo paghi quello che vale e sette e mezzo perché inserisci i mulattieri mentre per quello che può dare all'Inter io qua esagero ragazzi ma ve lo dico proprio onestamente poi verrò smentito o semplicemente verranno confermate quelle che sono le mie aspettative io do nove e mezzo per quello che può dare all'Inter del futuro Inzaghi mi sembra anche un allenatore che per il suo futuro può fare può fare tanto cioè può anche aiutarlo ad alzare l'asticella già mi immagino gli inserimenti che faranno una volta lui una volta Barella quanto aiuteranno la manovra la manovra offensiva quanto poi saranno importanti e fondamentali a chiudere le azioni difensive per farle ripartire e trasformarle in offensive è un giocatore che potenzialmente secondo me ragazzi ogni stagione può arrivare non dico a doppia cifra in gol ma quasi proprio perché tante volte si riversa nella tre quarti avversaria bravo anche in fase di palleggio visto che non visto che non lo avevo detto quindi per me nove e mezzo ma tutta la vita sono convinto di quello che dico e l'Inter oggi fa è come se facesse un doppio colpo lo toglie la concorrenza se lo prende lui se lo assicura per il futuro e anni a venire per un centrocampo secondo me veramente tra i più forniti e forti della serie A non credo il più forte in assoluto ma comunque di livello con i top centrocampi se così vogliamo dire italiani e forse non solo la vostra qui sotto nei commenti che cosa ne pensate dell'acquisto di frattesi da parte dell'Inter e date i voti qui sotto rapporto qualità prezzo è per quello che può dare e semplicemente io vi ringrazio per la visione di questo contenuto e vi do appuntamento alla prossima con un nuovo video mamma mia ragazzi mamma mia che giocatore frattesi ciao ragazzi